Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it. Oggi ti voglio raccontare come si sono svolti i lavori per questa villa a Covignano dei Rimini, Villa Z, dove abbiamo personalizzato veramente qualsiasi cosa. Siamo arrivati a fare persino il portarotolo di carta personalizzato. E mi viene da ridere perché penso a volte a marche di sermenti blasonate come Interno, come Finstra dove scrivono i fissi personalizzati. Mi viene da ridere perché già è fatica che ti faccio le misure, se gli chiedi una misura strana già non te la fanno e se gli chiedi un colore particolare vanno già in confusione. Qui veramente invece si può vedere che cosa vuol dire personalizzare. perché ci ha scelto il cliente e perché ci ha scelto l'architetto Paolo Venturi. Perché potevano mettere piede in officina mentre producevamo i loro manufatti, non solo finestre, e costruirli veramente su disegno come loro le volevano. Infatti una delle esigenze che aveva questo noto imprenditore del Rimenese è avere qualcosa di unico ed esclusivo che nessun altro potesse avere. E lo voleva fare in un contesto di arredo stile industrial e anche gli infissi chiaramente in stile industriale. Così anche come dovrò essere degli infissi molto sicuri alla frazione. Perché nelle colline di Covignano è una zona molto bella ma bisogna stare attenti. Quindi abbiamo realizzato tutti questi seramenti che puoi vedere in foto. Abbiamo fatto la zona lounge dove lui tiene delle feste con dei personaggi di spicco del Rimenese che si possono completamente aprire delle vetrate. E erano sistemi che non esistevano, fatti come li voleva l'architetto, quindi li abbiamo dovuti veramente creare, li abbiamo inventati da zero. E poi abbiamo fatto la vetrata della cucina dove cliente e architetto sono stati dei giorni per decidere come suddividere tutti i vari riquadri, come creare la scatola della serratura. C'è stata la particolarità che al cliente non piacevano assolutamente le persiane e le tapparelle perché giustamente non c'entrano nulla con l'arredamento industrial e quindi si è deciso di creare degli scuretti in lamiera integrati ai seramenti con anche lì delle maniglie disegnate da architetto. Ricordo che Mirko, il mio socio che ha realizzato personalmente la maggior parte di questi sistemi, ne ha fatti diversi di prototipi prima ad arrivare a qualcosa che soddisfasse i gusti di cliente ed architetto. Siamo arrivati a costruire un mobile con un portalotolo di carta igienica per il bagno con integrato un portariviste. Abbiamo creato una scala da un'idea che era di avere un cubo, un rettangolo con una scala all'interno. Sono cose che non puoi trovare in commercio e che nessuna marca famosa, blasonata che sia, ti potrà mai dare. Questo significa veramente personalizzare le cose e questo vuol dire affidarsi al sistema Bisacchi e a una personalizzazione estrema ed essere seguiti veramente dal proprio fornitore che poi ci diventa anche amici, non solo fornitore e cliente. Come è successo anche con l'architetto Paolo Venturi e con il nostro cliente. Delle altre cose che abbiamo realizzato per questa bellissima villa su una go window, quindi un quadrato completamente vetrato nella zona pranzo e colazione, dove il cliente può andare a fare colazione all'interno di questa zona meravigliosa, molto suggestiva e che dona molta pace e tranquillità. Anche perché tutti i vetri di questa abitazione sono extra chiari, quindi estremamente luminosi. Sono diversi dai vetri che vengono utilizzati comunemente nelle abitazioni normali e sono vetri anche molto sicuri. Sono vetri blindati, abbinati all'infisso e a delle chiusure blindate. Poi ci sono una serie di mobili, tantissime cose che le puoi vedere nelle foto. È bello perché abbiamo fatto anche delle sequenze, abbiamo trovato delle foto nei telefoni mentre le facevamo in officina o quando dovevano venire gli architetti a vedere quello che stavamo facendo. Quindi puoi vedere il prima o dopo, che è una cosa molto bella e molto importante. C'è stata una richiesta dell'ultimo minuto, mi ha detto il mio socio che il cliente a un certo punto guardava questa parete e ha detto qui manca qualcosa. Fai un buco lì. Ha fatto un buco e noi abbiamo realizzato nel giro di pochissimo tempo un oblo completamente fisso che puoi vedere nelle foto e anche molto bello con un panorama che diventa un quadro praticamente. Come mi piace dire spesso ormai non facciamo più finestre ma stiamo realizzando dei quadri. Un'altra cosa divertente è stato che il nostro cliente parlando con Mirko gli ha detto Mirko ma mi serve qualcosa da mettere sotto la televisione, il mobile della tv, cosa ci posso fare? Ora Mirko gli ha dato questa putrella in acciaio e lui ha detto è stato il regalo più bello che avevi fatto. Storie come queste fanno un po' sorridere ma fanno capire lo spirito e la passione che ci mettiamo nel realizzare quello che è il nostro mestiere. Quello che i nostri clienti, quelli che vogliono qualcosa di diverso qualcosa che non possono trovare dal classico negozio di serramenti o di infissi anche delle marche più blasonate ma vogliono un rapporto e qualcosa di veramente unico. Spero di esserti riuscito a trasmettere questo con questo video e con questo articolo. Se ti servono degli infissi esclusivi come quelli che abbiamo fatto qui in questa villa a Rimini non ti resta che andare su www.bisacchi.it e richiedere una consulenza. Se invece ti è piaciuto il video metti mi piace e segui il nostro canale attivando le notifiche così non ti perderai i prossimi video. Ciao e al prossimo video.